Mi hanno sempre bullizzato i bambini, io ero fesso, io mi sono fatto rubare il Game Boy tre volte, lo stesso giorno, giuro, dalla stessa persona, abitava nel mio condominio, era un ragazzino napoletano, lo dico perché è vero, non voglio fare stereotipi stupidi, l'ho rivisto di recente sto ragazzo, non fa il ladro di mestiere, fa il pizzaiolo, no, sto scherzando, sto scherzando, in realtà lui spaccia. No, era veramente criminale, era criminalissimo, la terza volta che mi rubò il Game Boy, i miei andarono a chiederglielo indietro e lui chiese il riscatto, cioè mi toccò pagare 100 euro per riavere i miei. Io lo disse, guarda che 100 euro per i genitori sono pochi, ma tu sei un frato, e allora, e allora Ciro?